Direi che è arrivato palesemente il momento di andarcene verso San Gimignano Perché adesso è là che si concentrerà tutto il nostro assassinare Perché così lo possiamo chiamare Il nostro assassinare Non vi spaventate sono sempre Ezio Non vi preoccupate Ok stazione di posta facciamo acquisti Però prima di fare acquisti vorrei fare una cosa Vorrei comprare i quadri qui Dato che c'ho qualche denarino da parte Per aumentare la rendita vorrei Possibili monci Comparare qualcosina Allora dipinti Forse deve averci tutti i soldi Sì Ok tutti i dipinti di Monteriggioni ce li abbiamo Mappa del tesoro pure Vabbè valore di Monteriggioni poco 369 Sapevo che era poco E gli abiti li abbiamo già attenti con la skin bonus Quindi non c'è nient'altro da comprare qui Aspetta no c'è il fabbro c'è il fabbro c'è il fabbro c'è il fabbro Dimenticavo Dimenticavo tantissimo del fabbro Tanto ripariamo tutto per 81 Armatura Antibraccio in cuoio Tutti i pugnali da lancio Tornate a trovarmi quando ripassate E poi il veleno dal dottore vero Il veleno dal dottore Oh 1055 Pieno E ci siamo Fatto quel che potevo Ma in futuro state fuori dai guai Buono 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 ragazzi Buono 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 Ok Firenze Toscana San Gimignano Porta sud Quella più forse fattibile Oh diverse missioni ci abbiamo E' vero qua c'è da Far fuori più di qualcuno Ah c'è proprio Oh che bello Sono ricercato a manetta Iniziamo bene Iniziamo benissimo Ah le famose bancarelle Che nell'uno si potevano distruggere Lanciandosi la gente Bellissimo Vabbè intanto ripeto Togliamoci un po' di notorietà Che Non fa male La riportiamo al 50% per ora Devi scendere Devi scendere Sì devi scendere Ok non facciamo cazzate Però questa la devo fare Ok l'ho riportata allo 0% Basta solo adesso Non Entrare in conflitto Cioè in realtà ci sono già entrato però Magari se non picchio nessuno Le cose mi vanno un pochino meglio Anzi Faccio così Non sono ladri questi Avrei bisogno dei mercenari Cazzo E sono i mercenari Vabbè vabbè Il nostro l'abbiamo fatto L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto E ce ne siamo anche dileguati Perfetto Poi faremo tutti i punti L'osservazione del caso Intanto Intanto Abbiamo un ricordo qui Io direi Di approfittarne E andarla a fare No Per fortuna Era una guardia Un ladro C'ha tanti soldi C'ha tanti soldi C'ha tanti soldi Vieni qui Vieni qui Vieni qui che ti piglio Ah basta Atterarlo Neanche ucciderlo Benissimo Grazie Molta gentile Nessuno è timido Si Però Dove devo passare Praticamente 150 anni A cercare la missione Ezio Era ora che arrivassi Abbiamo trovato Bernardo Baroncelli Ma Ma Ditemi dove si trova E provvederò A toglierlo di mezzo Questo è il problema Lorenzo lo ha fatto arrestare Alcuni giorni fa Al suo ritorno Da Costantinopoli Ma è fuggito Crediamo possa nascondersi Da qualche parte A San Gimignano Va bene Vedrò di riuscire A individuarlo Come speri di riuscire Laddove il resto di noi Ha fallito Ho i miei sistemi Un tipo sfuggente Bernardo Baroncelli Ci sta Ci sta Intanto Inspiegabilmente Si è fatto giorno Lì c'è un punto L'osservazione Che poi Ripeto Farò Io Fuori dalla live E questo Non era previsto Però Non ho capito Io Stai zitto E muori Ok Perfetto Si fa così In realtà Non si fa così Però ok Si fa così Eh Non mi ha Atterrato Nel coso Nel mucchio di fieno Dov'è Jacopo Non è andata proprio Come volessi Hai ancora tempo Per ripurirti La coscienza Ci incontriamo in chiesa Quando viene detto Un convegno Mi duole Dover giungere A tanto Requiescati in pace E mo se scappa Perché ragazzi Sono parecchio Nella merda Per fortuna Vieni Resumato A rallentatore Direi che così È una cosa Più che saggia Via Qualcosa non va Si respiri ancora Morto E pelle di pipo Quella non la usi Ah no Fanculo Sono più scaltro di voi Sappiatelo Ecco Questo era totalmente inutile Fuori luogo È insensato E 2500 Vanno in saccoccia Perché insomma Abbiamo fatto una Porca figura Va bene Adesso Prima di proseguire In questa storia Mi è necessario Ma proprio strettamente Necessario Ripulire un po' San Gimignano Dagli scrigni Dai punti di osservazione Tutte le cose varie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti